buona ragazzi impegnati costantemente da digno oggi ragazzi come avete letto dal dita vero a pari alessandro foscoglio di coperno raccolto di gonai e vincenzo donaldino 2v2 due tempi da dieci minuti quindi i gol possono essere infiniti niente la città di chi iscrivetevi al canale attivate la campanella per un iniziamo diagumannaka diagumannaka napoli uno non ho detto io no napoli bravo e no 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 tutto giù no tutto giù � tre god e Sì! Sì! Meno due minuti al secondo tempo Maio inizio secondo tempo Maio inizio secondo tempo Siamo stati un S Aiuto Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Salma, sette a quattro Sam, sette a quattro Fete Perttue Oh Eh Ocay, come on over in Oh, come on over! Perttue Oh, perttue Buona domanda! Grazie! Fusco, fai sempre i guai! Fusco, fai sempre i guai! Calma, calma, calma! Vedi io? Ecco! No! No! Due minuti di recupero! No! No! Che ha fatto? Che ha fatto? Ha preso il palo! Fuori, fuori! Vai cazzo! Ma perché è così, brah? No! 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 Da dove sono partito? Da là? Da lì! Ah! Sono partito da qua! Io! All'inizio avevo detto che non si può tirare di prima dalla rimessa! Tu eri qua dietro la cinesia e hai tirato così! Scusa! È vero! È vero! È così! È importante! Non eri qui! E' qua! Dai, dai! Qua no! Ero qua! Ero qua! Non è vero! Hai tirato da qui! No, da qua no! Sì, fra! Ah, però... La palla era qua! Però ho fatto qua! Ero fuori! Ero fuori! Però mi sono accentrato un po', ho fatto così! Sono un po' entrato dentro! Non è vero! Sì! Non è vero! Si vede dalla registrazione! Non è vero, fra! Si vede! Guarda! Sei passato qua! In ogni caso, anche se io avessi tirato da qua! Guarda! Pure tu l'hai fatto, quindi è valido! Sei passato qua! Hai toccato! E hai tirato subito! Eh! L'avanzamento l'ho fatto da qua! No! L'avanzamento l'hai fatto da qua! Sì, va bene! Dai, fra! L'ho fatto da laggiù! No! Fra! Ero qua! Ero dietro al cinesino! Sono entrato almeno qua! Ma non è vero! La linea del cinesino almeno l'ho toccata e ho tirato! Ma ti dico che non è vero! Ah boh, quindi! Monora perde 7-8 insieme a Cusco! A parte che aveva 8-8! A parte che rivedo il gollo! Vai a rivedere anche! Eh! Non adesso! Quando editerò il video te lo dirò! Te lo dirò! O se non può finire anche 8-8! Anche se penso che abbiamo vinto! Abbiamo fatto una rimonta assurda io, Enzo! Impazzesco! Non va che non vale! Cusco, per favore non piangere! Non ci rimanere male! Quindi voglio! Adesso nell'edito andrò a rivedere le sfine! 8-8-7-8! A me vi pare 8-7-8! Eh! 8-8! Eh! 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 Quindi! O pareggio o vittoria nostra! Abbiamo fatto una rimonta assurda! Bravo Enzo! Quindi voglio! Se volete un altro video come questo lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per preparare un like per il nostro video! E niente, voglio! Noi ci vediamo nel prossimo video! E voglio! Ciao! Ciao! Ciao!